oggi voglio farvi vedere come si fa a mettere una texture sopra un testo in questo caso noi qui abbiamo un testo segnaposto messo a caso noi vogliamo mettere questa texture dello sfondo sopra al nostro testo allora mi vengono in mente due modi molto rapidi per farlo il primo ancora più veloce io posso cliccare sulla t tenendo premuto comando contro se sto usando un pc e vedete che i pixel esistenti ovvero la scritta vengono selezionati a questo punto selezionando il mio livello di sfondo è sufficiente che io apra una maschera di livello e poi chiuda il mio testo e vedete che quello che ho ottenuto è che la texture è visibile solamente in corrispondenza del testo esiste un modo migliore di fare questo però ovvero io posso andare a prendere il mio testo metterlo sotto al livello della texture dopodiché posso posizionarmi qui in mezzo tra i due livelli e tenendo premuto il tasto opzione o alt su pc vedete che compare questa freccina se io la premo sto clippando il livello sopra al livello sotto in questo modo ho ottenuto lo stesso risultato di prima ma con una differenza mentre quella di prima era una maschera e quindi era fissa come come la vedevamo in questo modo io posso andare a selezionare il testo e modificarlo e la mia modifica prende automaticamente la texture da sopra quindi io posso cambiare il testo posso riscriverci dentro e mi tiene la texture sopra bene spero che questo video vi sia servito a qualcosa e ci vediamo alla prossima